Apri gli occhi, osservare le norme contro gli infortuni sul lavoro salva la vita. Questo è il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro finanziata dalla Regione Abruzzo, promossa da Abruzzo Lavoro e realizzata da Carsa. La campagna presentata a Pescara prevede una serie di attività di informazione, con spot, cartellonistica ed una pubblicazione multilingue con numeri e comportamenti utili e normative di riferimento. Previste anche azioni informative nei confronti dei giovani del sistema scolastico e universitario, nonché il conferimento di marchi distintivi per aziende virtuose o innovative. Per il commissario straordinario di Abruzzo Lavoro, Germano De Sanctis, l'approccio che si è voluto dare a questa campagna informativa falleva sui singoli comportamenti, senza criminalizzare nessuno, né aziende né lavoratori. In gioco è la vita e ci si deve convincere che i dispositivi di sicurezza individuali non sono un orpello o ammennicoli fastidiosi, ma strumenti di protezione.